Episodio folle di GTA si può fare, oggi proviamo 8 cose diverse e vediamo se funzionano E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef, che stagio chiama GTA V E siamo tornati qui con un nuovo si può fare molto molto speciale Perché stavolta ne proveremo ben 8 in un solo episodio Inizieremo dal si può tornare indietro con l'elicottero, quindi si può guidare al contrario Esattamente, allora abbiamo fatto il sondaggio nello scorso episodio per vedere se volevate un episodio pazzo con un sacco di cose da provare L'avete votato tantissimo e quindi eccoci qua Allora questa secondo me è una cosa strana, nel senso che secondo me si può fare Ma io non ho mai visto fare la retromarcia in elicottero In teoria esatto, noi l'abbiamo detta complicato ma sarebbe l'elicottero può andare in retromarcia Sì, esattamente Io no, vedremo Vediamo, allora se io faccio così Ok Stando a guardare la mappa Ok Io sto andando in retromarcia No, secondo me stai semplicemente scendendo all'indietro e contando che l'elicottero non è mai fermo Per inerzia sta andando all'indietro Tipo così? Aspetta Ora sto andando all'indietro Ora sì, ora sì, ora sì, ci stiamo girando Ok, è un po', diciamo una retromarcia che non consiglierei agli cari Allora, secondo me si può fare ma solo per due metri Guarda Ok, ok, ok Devo stare attento a non farlo gi- No, 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 no Non esplodere, ti prego che ci servi Ti prego non esplodere Ti prego non esplodere Ti prego non esplodere Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego No Esplode, vero? Mi sa proprio di sì Esplode, vero? Comunque, la retromarcia direi si può fare ma per poco Proprio come titolo, ti piace? Cioè, allora, io consiglio e ve lo dico Se vi serve una mini retromarcia tipo giusto per mettervi bene si può fare Se invece volete fare tutta la città in retromarcia invece no Sconsigliato, altrimenti finite così a girare in terra a testa in giù E come è appena successo a noi Esatto Aia Però mi è venuta in mente una nuova cosa da provare qua Ok, dimmi Ci serve uno di quegli aerini piccoli piccoli piccoli, è presente? Sì Trovati, trovati, trovati Allora, tu devi salire a bordo di questo elicottero E devi solo andare verso l'alto Ah, ok, 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 quello me lo posso fare Esatto Io provo con questo piccolo aereo a schiantarmi sulle tue eliche E vediamo se esplodo Ok Ok Secondo me sì Anche secondo me Però è scontato che esplodo se ti colpisco in pieno Sulle eliche, secondo me, potrebbe semplicemente rischiare ma non esplodere Capito? Ci stanno dei si può fare extra nell'attesa che rispondi L'elicottero che ci serve Sì, 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 è mi venuto in mente Visto che siamo qua Dai, vai, vai Facciamo qualcosa di costruttivo Per il più ne ho preso uno Troppo bellino Che tipo con la pubblicità E l'ho vista, è carinissimo, è bellissimo Quindi mi dispiace qua Tutto colorato Ti vedo, stai andando troppo in alto però Ok Scendi un po' Sto scendendo L'eliche Mi è mancato alla grande proprio Ma non proprio, eh Dai, gira Di poco, di poco Gira, gira, gira Con calma, con calma Dammi il tempo Io in bersaglio Alzo leggermente la quota No, eri giusto Perché ti sei alzato Ti stavo dicendo Sei giusto, vai dritto Perché ti devi alzare Perché mi sembrava che mi sarei schiantato su di te Allora, prova ad andare poco poco più in alto io Ok Così magari ti vengo incontro con le quote un po' più alte Ok, va bene così Va bene così Ti vedo Stai già lampeggiando Quanto è difficile sta cosa Eh, parecchio Dai Infatti non so perché ti è venuta in mente, guarda Ok L'ho colpita, hai visto? Sì E ho solo raschiato come pensavo io Esatto Ci voglio riprovare un po' meglio No, devi prenderle proprio di faccia, capito? Col muso dell'elicottero Ti prendo Ti prendo Ce la faccio No, non ci sei Ce la faccio No L'ho fatto col muso Sì L'ho fatto col muso No, non esplodi, giusto? Sembrerebbe di no Magari se ti colpissi perfetto Però Difficilissimo Eh sì È talmente impossibile Che lo vedrei difficile E si è fatto esplodere da solo Cioè, lo trovavo carino E ho detto Ah, per fortuna Almeno non l'ho fatto niente esplodere Me lo tengo E poi mi schianto Perché non giro Dopo, non so Tipo, credo, 20 minuti E un sacco di elicotteri Che ho fatto esplodere Finalmente è risponato questo Sto piangendo per ciò Che abbiamo fatto prima Comunque Cosa vogliamo provare? Vogliamo provare A prendere una macchina Con questo elicottero Fino a Oh, ma Steph Ma si può fare Certo Però vogliamo vedere Se arriviamo alla massima altezza Di questo elicottero Se facciamo cadere la macchina Ok La macchina esplode? Sì O non esplode? Esplode Cioè se cade dritta Non se cade storta Se cade storta Ovviamente suole Non lo so Non lo so Capisci? Steremo a vedere Dai, sì Allora In effetti è molto interessante Perché da un'altezza del genere Alla fine ti aspetti che esploda E la mia domanda è Come si fa a lasciare la macchina Quando ce l'hai presa? Non lo so E quindi scopriremo anche quello Cioè non lo so Vai, vai Ormai Ti tocca improvvisare Per ora sali su una macchina Perché ti voglio sopra la macchina Che cadrà Ma no Vai, vai, vai Ma perché non lo fai tu? Eh perché io devo guidare Tu non hai i tasti per guidare Allora prendiamone Altrimenti l'avrei fatto Tranquilla Ma stai zitto Guarda Devi stare immobile Non cercare di sistemarti O di fare cose che tu pensi Ma sei sicuro che si possa prendere? Che siano utili Oh Ce l'ho fatta? Sì, 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 sì Vai, vai, vai Sali, sali, sali Ok Allora È terribile sta cosa C'è un dolore sotto un elicottero È terribile Ma infatti che sei anche un po' storta Io spero che riuscirai a cadere le dritte No vabbè, aspetta, aspetta Si sta raddrizzando? Quando tu ti fermi si stabilizza Ok Quindi tu ora pensa ad andare in altro posto Un attimino fermo E mi fai cascare Ok Sono molto curiosa Molto emozionata E infatti questo è proprio Titolo e copertina al 100% Secondo me Non so È già deciso Sì, non so se gli altri Saranno più interessanti di questo Però secondo me no Questo secondo me è il più figo di oggi Anche se c'è della roba interessante Che voglio provare dopo Allora Ancora non mi basta questa altezza Di più Di più Proprio si devono vedere le stelle Esatto Si deve vedere l'universo Non si deve più vedere la città Esattamente Andiamo Non capisco più se sta salendo ancora o meno Quindi secondo me va bene come altezza Che dici? Non si vede più Non si vede più la città Sì Vado? Vai Ok Io sto ferma Ti ho mollato Oddio Cerca di raddrizzarla tu un po' Eh lo so Però vacci piano Tocchetti piano Sì, sì Lo sto facendo Sono dritta Sono dritta Ok Ok Ci sono, ci sono Ti sto seguendo Carendo Dimmi di sì Non sono esplosa Davvero? Sì Dove sei? Eccoti Aspetta dove sei? Qua Guardami Oh mio Dio Allora guarda il cofano di dietro Cioè te lo devi godere Se ti fermi posso atterrarti addosso Aspetta Aspetta Ah sei ancora con l'elicottero? Ah no Eccoti Eccoti Guarda Se l'abbiamo fatta? Sì Guarda Guarda il cofano di dietro quanto è messo male Quanto è in alto Lo vedi? Sì Che è proprio curvato di così dalla botta che ho preso Ma sono ancora viva e la macchina non esplode Che bello Quindi sì Si può cadere da oltre la città Oltre le nuvole E non morire Bellissimo Bellissimo Mi è piaciuto un sacco questo Finché cade dritta non esplode Infatti sei stata brava Io pensavo che avresti rovinato tutto Come sempre E invece sei stata brava Infatti sono molto fiera di me Anche io Si può fare E un altro si può fare importante Magari è venuto in mente a qualcuno Sei com'è Io dicevo che adesso andiamo a festeggiare in spiaggia Ok Non perché dobbiamo festeggiare Ma perché dobbiamo provare delle cose lì Che ora è? Fammi vedere 16 e 40 Muoviamoci perché Io non ci credo Guarda il mio schermo No no lo vedo lì davanti No 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 davvero 20 minuti qua fermi Adesso ce ne sono due Più l'altro che avevi tu tre Esatto Adesso dobbiamo provare tre cose davvero rapide e veloci Ok Ok Che mi sono sempre chiesto io Perché qua non so se hai notato Ci sono le cabine stile Baywatch Ok Sì ovviamente Allora la mia curiosità Le cabine dei bagnini Giustamente Esattamente Allora le mie curiosità sono Numero uno C'è gente che realmente va in spiaggia a nuotare Ok E in effetti Andiamo a vedere il mare Io non vedo nessuno a nuotare Oh no Ah no non sono persone quelle ok Però secondo me vanno in spiaggia a nuotare Io se non ricordo male li ho visti Non lo so Non lo so Non lo so Allora scusi Scusi lei No Allora no No non sono armato Può andare in acqua A farsi un bel bagno Dai ha un bel crestino Mi sembra adatto No non si metta col telefono È sempre a parlare al telefono Lei vero Qua le chiedono un favore Di fare una nuotatina Oh 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 Si calmi Si calmi eh No no si calmi Che qua nessuno vuole botte Il dubbio numero 2 è Dato che ci sono i bagnini Se qualcuno finisce in acqua Lui va a salvarlo O se ne rimane qua fermo immobile Continuando a restare col binocolo Quindi Allora Signorina Prima di tutto Come lo facciamo a finire in acqua Molto semplice Ci sono quelli con i motoscaffi Ne buttiamo uno giù Aspetta Spingo questo No non funziona Vai in acqua No non funziona No non devi cadere Devi andare in acqua Lui sta guardando con i binocoli il mare Ok Eh si Se io mi metto davanti Lui abbassa i binocoli E si sposta e guarda in un'altra parte Quindi chiaramente sta facendo il suo lavoro Sta guardando Perlomeno sta guardando Quindi potrebbe funzionare anche questo Guarda che epico nel caso Vediamo vediamo Allora i miei dubbi devono restare ancora per qualche minuto Perché sta diventando notte E ovviamente la gente al mare non ci va più Quindi Perché sei in giro col motoscaffo? Perché è divertente Volevo provare Non resta nel motoscaffo Eh ma non posso più andare avanti Eh appunto Tranquilla Volevo vedere quanto potevo stare nella sabbia Capito Sfruttando l'energia dell'acqua E io invece voglio vedere Posso acchiappare anche un motoscaffo? Ok dai Oggi stiamo facendo troppe cose extra Che non erano previste Vabbè tanto abbiamo detto otto Non li avevamo Capito? Cioè si possono anche un po' improvvisare Certo Aia Scusa Scusa Aspetta Sì Però mi hai buttato giù Mi hai buttato giù Ma l'hai preso Sì Guarda che pensavo che non funzionasse Anch'io non pensavo No vabbè Non pensavo Epico E adesso No vabbè mi stanno prendendo un sacco di cose in mente tutte insieme Posso mettere un motoscaffo nella ruota panoramica? Vai Io ti guardo da qui Allora scusate Se c'è qualcuno Mi dispiace Se c'è qualcuno mi dispiace Sì Vabbè ci stai in certi episodi non funzionava niente Ci funziona tutto Ma che figo Poi sono improvvisatissimi Ve lo giuro Che questa roba la sto totalmente improvvisando Allora quindi ne abbiamo fatto Quanti ne abbiamo fatto? Eh tanti Non mi ricordo più Allora abbiamo fatto L'elicottero in retromarcia Sì L'elicottero preso Quella cosa dell'elicotterino Ok Poi vabbè Questo della macchina Questo della macchina E poi adesso quello del motoscaffo E quello del motoscaffo nella ruota panoramica Quindi adesso testiamo tutta la roba dei bagnini Ok E ne facciamo anche uno extra Perché io ovviamente avevo anche una lista di quelli da fare Allora No ci sta dai Anche se non sono otto precise Qualcosina in più Ci sta comunque dai Ok sai quale proviamo a fare? Sì Perché dato dobbiamo aspettare tutta una notata Sì abbiamo notato che praticamente col tramonto Se ne vanno tutti via dalla spiaggia Quindi ovviamente è meglio riprovare la mattina Andiamo a provare una cosa che secondo me ti piace molto E che Non era questo Scusami Io stavo atterrando Ti odio Allora Ti dicevo Che c'è una cosa che è perfetta per la notte Che ti piace molto Si può morire Bevendo troppi alcolici Perché a me piace morire Io ne bevo alcolici Ogni volta che andiamo in un bar Ti bevi Perché a me piace farmi bere Nel gioco Mi piace farli bere solo al personaggio di GTA Io non ne bevo Perché non mi piacciono La so Infatti nel gioco Non nella vita reale Mi fa ridere come beve il personaggio Cioè poi si ubriaca e barcolla tutto Quindi mi fa ridere Secondo me vomita ma non Ma non muore Anche secondo me non muore Però Però Whisky 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 Quindi mi sembra anche giusto morire se ne bevi troppo Perché fa davvero schifo Non seguite l'esempio di Ferrenichi Ferrenichi è nata per fare queste cose Perché appunto è vestita da prigioniera Esatto E uno è andato Allora su GTA lo potete fare Nella realtà no Esatto Vai due 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 Forza Più veloce qua E vabbè devo aspettare Non sono io Io avrei fatto più in freccia Abbiamo un'intera notte Però Vai Vai di nuovo Ok vai vai Ancora 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 Devi direttamente la bottiglia Come ti senti Come ti senti Dici un po' Bene bene Sì Non mi sembra che stia andando male qualcosa Ancora non sta facendo effetti strani Non mi sembra Non stai vedendo I cani che volano Nulla No no Sono morta Stai scherzando È crollata Sì Aspetta E tu hai lo schermo nero Ho lo schermo nero Per quello sto Dove sono Non ci sono più No Sei crollata E sei scomparsa Sono morta Sono fuori dall'ufficio Sì Questa è una cosa terribile Essere felici di essere morti Ma ha funzionato No Oh non l'avrei mai detto Io a un certo punto Ero convinta che Rimanesse tutto uguale Non cambiasse nulla E invece si può Morire Bevendo alcolici Un altro che oggi è andato bene Io non ci credo Non ci credo Cioè È una giornata meravigliosa Non ne sono mai andati Così tanti bene Tutti insieme Per di più oggi Sono di più del solito Bisogna aspettare Che si alzino Ma guarda che bellino Questo castello di sabbia Scusa Si può distruggere Un castello di sabbia Su GTA Scusate Sì L'ho rotto L'hai rotto E l'ho pure mancato Oggi guarda Sembra che qualsiasi cosa Diciamo funziona Vieni vieni Si stanno facendo il bagno Dov'è Vieni lo fanno Lo fanno Stai scherzando Guardalo Ok Ti vedi che stanno tornando a riva E l'altro è lì Sì Questo è appena tornato Corri Dai un pugno Corri dai un pugno A quello che sta in acqua Vado Veloce 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 Prima che esca Lo stendi Vado L'hai mancato Niente 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 Allora pronta Se ne vedi un altro Però non c'è il bagnino È quello che io ti volevo dire da due ore Non c'è il bagnino a quest'ora Capito Ma è una presa Cioè è una presa in giro Cioè che ti devo dire Non c'è il bagnino Cioè il bagnino c'è quando nessuno sta in acqua Eh esatto E non c'è quando la gente nuota Stendi Pronto Un pugno Fino a quando non viene steso Vai Ma nuotano velocissime Aspetta 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 Rallente Ma no no Cioè Allora Ho una teoria Il bagnino non serve perché quella gente si salva da sola Ma cioè guarda Le fermo E continua a fissarle col binocolo Guarda Le sta fissando Allora 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 Il bagnino è ancora lì davanti Giusto Sì 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 È qua che guarda Ho fatto cadere due tizi dal motoscaffo E sto puntando la signorina un po' più lenta Ascolta Io la prendo qua da davanti È cara signora Bagnino guardi Aspetta Stai ferma Stai ferma Stai ferma Aspetta 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 Ah è scappata Ah Io ho detto Mo viene come l'eroe Io ho detto Sta arrivando Magari è convinta Capito che deve fare la respirazione a bocca a bocca Invece prende e molla il posto di lavoro Allora Quindi allora Allo Santos Ricordatevi che non potete affogare Perché i bagnini scappano Merita di essere licenziata in un modo un po' estremo L'ho mancata Comunque dai Direi di fermarci così per questo video Un'ora e venti Per fare tutto quello che volevamo fare Ma Ve avevamo promesso un video speciale Più lungo Che è andato davvero benissimo Un sacco di cose che hanno funzionato È stata una figata pazzesca Ovviamente ragazzi Nei commenti Suggeriteci cose da provare Prendete ispirazione Da quelle che abbiamo fatto in questo episodio Così capite un po' lo stile Quelle che ci piaceranno di più E che utilizzeremo Le metteremo anche nel video Così si vedrà il vostro nome Si vedrà la vostra Cosa consigliata E sarà una figata Beh ragazzi E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarvi Di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao E la prossima Ciao ciao Grazie per la visione